Gian, una vittoria importantissima per Milano, un 3 a 1 che ci dà tre punti fondamentali per la classifica, un inizio un po' in sofferenza, poi è venuta fuori la potenza di Milano, una squadra che è riuscita a vincerla soprattutto a muro questa partita. Sì, secondo me questa partita è stata molto importante per noi, anche per le prossime partite che dà a noi un po' di confidenza, un po' di self-esteem, noi andiamo più carichi davanti, all'inizio abbiamo sofferto un po', però è normale quando fai un viaggio così lungo, però abbiamo trovato il nostro gioco e in muro abbiamo fatto tantissimo lavoro, spero che continuiamo così e il nostro gioco sale. Una Milano che sta trovando, come hai detto tu, più confidenza nel sistema di gioco, ok l'inizio un po' contratto nel primo set, questo ci rilancia sicuramente a livello caratteriale e mentale, ma anche a un punto di vista tecnico in vista di una partita importante come quella di domenica, il derby contro Monza. Sì, all'inizio abbiamo sofferto un po', però l'inizio è sempre difficile, loro hanno fatto tantissimo lavoro sulla battuta, abbiamo stato in vicino, però alla fine non abbiamo riuscito a fare un set per noi. Adesso secondo me possiamo stare più confidenti, sappiamo che il nostro gioco è buono, abbiamo cresciuto tanto e secondo me adesso andiamo positivo avanti.